Allora, buonasera a tutti. Come avete visto dal titolo di questo video, faccio un giveaway per gli iscritti o le persone che in questo lasso di tempo si iscriveranno, poiché ho visto che ho superato i mille iscritti appunto, che è un numero veramente irrisorio nei confronti dei grandi youtubers vigenti, però per me rappresenta lo stesso un traguardo soddisfacente. Per partecipare è semplice, dovete lasciarmi un commento sotto a questo video con il nome di una delle vostre canzoni preferite, che può essere italiana o straniera. Io ad ogni commento assegnerò un numero e sabato 16 dicembre, nella giornata, non vi so dire se è la mattina o il pomeriggio, comunque sabato 16 dicembre, andrò a fare l'estrazione a random. Il vincitore o la vincitrice verrà contattato e potrà comunque dirmi, oltre a darmi gli estremi per inviare il pacchetto, potrà dirmi che cosa vorrebbe ricevere. Possono essere oggetti per perlinare, o per il sudash, o per il make-up, o per la pittura, visto che comunque ho anche dei video che trattano di pittura. E questo è quanto. Per cui partecipate. Il giveaway termina alla mezzanotte, praticamente alle 11.59 della giornata di venerdì 15 dicembre, e nella giornata invece di sabato 16 andrò a effettuare l'estrazione. Cercherò di spedire prima di Natale, sperando che il pacchetto arrivi prima della fine dell'anno, considerando che magari sotto le feste le poste possono subire dei ritardi. Un'altra cosa che volevo dirvi, agli iscritti o a chi generalmente mi segue, è che qualche tempo fa in un mio video avevo specificato che avevo tolto la monetizzazione dei miei video. Questo è vero in parte, diciamo. Io metto la monetizzazione una volta che un mio video ha superato le mille visualizzazioni. Questo per permettere ai miei iscritti di vedere il video senza interruzioni, dopodiché inserisco la monetizzazione. Ci sono in realtà altre motivazioni dietro a questo gesto che non vi sto a spiegare, ma che ovviamente non hanno nulla a che vedere con il mio reddito, sia chiaro, perché il video che ho, che ha ottenuto più visualizzazioni, mi sembra che ne abbia raggiunti 12.500. E non penso che questo significhi chissà quali entrate. Ad ogni modo, io assicuro ai miei iscritti la visione completamente priva di spot pubblicitari, che poi non è che sto tutto il giorno su YouTube a controllare che un video raggiunga le mille visualizzazioni per mettere poi la monetizzazione, per carità. Però questa è la mia scelta. Comunque, bando alle ciance e torniamo al grosso giveaway. Lasciate un commento, la vostra canzone preferita, una delle vostre canzoni preferite, perché dire la canzone preferita non penso sia umanamente concepibile, entro la fine di venerdì 15 dicembre. Un bacione a tutti, partecipate!